Ciao amiche e ciao amici, come effettuare consapevolmente il viaggio astrale? Il viaggio astrale è un viaggio cosiddetto la fuoriuscita dal corpo, alcuni la chiamano anche la piccola morte perché si tratta di un qualcosa, di un assorbimento degli elementi che avviene anche durante la fase della morte. Ora, ci sono diversi modi per entrare nel viaggio, per effettuare consapevolmente un viaggio astrale. Si può sfruttare il sogno, ad esempio, ma si può anche, diciamo, mettere in atto attraverso una meditazione consapevole. Ora, come facciamo a meditare per raggiungere un viaggio astrale? Ci sono due fasi fondamentalmente, una fase cosiddetta induttiva dove praticamente attraverso una meditazione riusciamo a raggiungere uno stato di coscienza onerosimile, uno stato di coscienza un po' simile ai sogni, uno stato di coscienza di profondo rilassamento. E una volta raggiunto questo stato di coscienza possiamo, come dire, utilizzare lo stesso stato di coscienza per fare effettivamente questo spostamento nell'astrale. Quindi mettiti in una posizione comoda, rilassato, con la schiena eretta ma non tesa, e respira tranquillamente. Mentre respiri tranquillamente, l'aria entra e esce dai tuoi polmoni, ti rilassi sempre di più. Puoi portare l'attenzione sul peso del tuo corpo e via via che ascolti il suono della mia voce il tuo corpo diventa sempre più pesante, sempre più pesante e rilassato, pesante e rilassato. E via via che il tuo corpo si rilassa, la tua mente diventa sempre più leggera. E adesso ti chiedo di immaginare il tuo corpo avvolto da una bolla di energia. Una bolla di energia di colore blu, azzurro. Immagina il tuo corpo, puoi essere seduto, puoi essere sdraiato, mettiti in una posizione per te comoda, non ha importanza. Ma l'importante è che immagini il tuo corpo avvolto da una bolla di energia di colore azzurro. Guardala, osservala. Questa bolla di energia ha un'intelligenza, ha una forma, ha una sua vitalità. E mentre continuo ad ascoltare il suono della mia voce, renditi conto che esiste un collegamento attraverso un cordone dorato che dal tuo ombelico si collega a una sorta di centro di questo cordone di energia, un cordone, una sorta di cordone umbilicale estensibile infinitamente. E adesso, mentre continuo ad ascoltare il suono della mia voce, porta la tua coscienza, porta la tua attenzione mentale all'interno di questa bolla di energia. e inizia a percepire il mondo attraverso gli occhi della tua mente. E piano piano, via via, che inizia a percepire il mondo con gli occhi della tua mente, immagina che mantenendo la tua coscienza, la tua attenzione all'interno di questa bolla, questa bolla si stacca dal tuo corpo, sempre collegata ad esso da questo cordone inestensibile. estensibile infinitamente. E questo cordone si estende e tu porti la tua coscienza all'interno di questa bolla di energia che si sposta all'interno della zona dove sei. Non si allontana moltissimo, ma dalle percezioni. Come se tu avessi delle percezioni di spostamento. Puoi muoverti in un'altra stanza, puoi muoverti in un'altra situazione. Sentire il trasporto della tua coscienza all'interno di questa bolla. Più riesci a mantenere la tua coscienza all'interno di questa bolla di energia, più hai delle sensazioni particolari. Più hai delle sensazioni particolari. E adesso ti chiedo semplicemente di fare qualcosa di molto veloce, molto veloce una sensazione particolare in un'altra stanza. Un'altra stanza vai a focalizzare qualcosa. Non è importante che tu lo veda con gli occhi. È proprio una sensazione di qualcosa che non sapevi che c'era in un'altra stanza e in questo momento nella percezione. Non devi vedere con gli occhi perché non stai vedendo. Sono percezioni sottili. Nel momento stesso in cui hai avuto questa sensazione di questo oggetto che non sapevi, di questa cosa che non sapevi, di quella stanza, rientra tranquillamente. Fa sì che la tua bolla di energia vada a riavvolgere completamente completamente di nuovamente il tuo corpo e porta la tua attenzione mentale nuovamente sul tuo corpo. Con la tua mente riporta l'attenzione sul respiro. Senti l'aria che entra e che esce dai polmoni. Benissimo. Senti l'aria che entra e che esce dai polmoni. Fai tre respiri profondi, consapevole di aver avuto una piccola percezione del mondo astrale. E poi quando avrai aperto gli occhi andrai a vedere nell'altra stanza se la sensazione è confermata. Fai tre respiri profondi, trattieni l'aria per alcuni istanti e poi ispiralo fuori fino in fondo con la bocca. Bene. Quando hai fatto tutto questo, puoi aprire tranquillamente gli occhi. Sentirti bene, tranquillo e rilassato e vai a vedere nell'altra stanza quello che c'è. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposte. Inoltre, se questo video ti è piaciuto, metti un like sotto e condividilo con tutti i tuoi amici. Ciao!